La Marvel riparte con Iron Man, con un primo numero della sua storia. Infatti la Marvel ha deciso di riprendere in mano questo personaggio per creare una nuova storyline che per il momento sembra molto interessante. Oggi parliamo di Iron Man numero 1, uscito da pochissimo tempo, che riprende effettivamente la loro abbiamo lasciato questo personaggio, che era rimasto un pochettino, diciamo, in disparte in tutto questo complicato universo fumettistico. Che cosa era successo infatti? In passato la Stark Unlimited, la sua azienda, era stata presa, acquisita da Feilong, uno dei più classici villain di questo eroe, del nostro Thorin Stark. E alla fine, ovviamente, di questa grande saga, alla fine Stark è riuscito a rimettere le mani come CEO della sua azienda. Ecco, la storia che andremo a narrare oggi, quindi il primo numero, partirà proprio da qui. Quindi tenete in considerazione, ovviamente, questo punto di partenza. E io, ovviamente, cercherò di accompagnarvi numero per numero, vignetta dopo vignetta, in tutto quello che succederà, cercando anche di mettere un pochettino i puntini sui vari personaggi, magari un pubblico un po' più generalista, magari non può conoscere dell'universo Marvel. Bentornati intanto su Hawk Comics, io sono Marra, siamo qui per commentare, per iniziare insieme questa serie. Direi che possiamo cominciare, ma prima vi ricordo cosa sostiene il nostro canale, ovvero il negozio che trovate in descrizione. Si chiama Redhawk, ci sono un sacco di prodotti a tema, fumetti, eccetera, eccetera, eccetera. In particolare vi ricordo dei poster personalizzabili in cui potete diventare il vostro eroe preferito. Chiaramente il link, ripeto, è in descrizione. E io direi che possiamo cominciare partendo subito, ragazzi, dall'inizio di questa storia, che parte con dei lavoratori. Ecco, vediamo dei lavoratori di uno degli stabilimenti della Stark Unlimited che provano ad entrare. Sembra essere anche un gruppo sindacale, in realtà ce lo fanno capire con diversi discorsi e mentre provano ad entrare, ai cancelli vengono accolti da dei personaggi misteriosi. Due personaggi che inizialmente sembrano essere delle guardie che misteriosamente non vogliono far entrare nessuno ai propri posti di lavoro, cosa che poi porterebbe effettivamente sti lavoratori a non guadagnare più, che sarebbe un problema. Ovviamente i lavoratori, questo gruppo, comincia ad insistere verso queste guardie che si trasformano in dei veri e propri mostri, demoniaci un po' strani effettivamente e questi qua che dovevano solo lavorare non si aspettavano, testuali e parole, di trovarsi i due Hulk che vanno contro di loro. Chiaramente siamo nell'universo Marvel, un universo fatto di eroi e serve proprio un eroe a risolvere questa situazione. Difatti fortunatamente arriva in soccorso proprio Iron Man, il protagonista di questa serie, tra l'altro omonima, che si presenta finalmente sin dall'inizio di questo numero. Ovviamente arriva esordiando e dicendo questi ovviamente non sono neanche il mignolo di Hulk, fortunatamente, però è arrivato a salvare la situazione. Si occupa di queste due bestie in realtà in un 4 e 4-8, ovviamente tutti si domandano il perché c'erano questi mostri a fare da sorveglianti, diciamo così, in questa fabbrica, ma non mi preoccupate di questa risposta, arriveremo comunque verso la fine di questo numero. e Stark quindi riesce a sconfiggerli e apre lo stabilimento per fare entrare i lavoratori. Inizia quindi a chiacchierare un pochettino con questi lavoratori qua ed entrando nella fabbrica ci dà anche la possibilità a noi di vedere che cos'è che si fabbricava all'interno di questo stabilimento, ovvero delle sentinelle. Di fatto, Feilong, che aveva preso il controllo della Stark Unlimited, aveva ritrasformato l'azienda a quella che era un tempo, ovvero un'azienda che produceva semplicemente armi di distruzione di massa, in particolare in quello stabilimento armi contro i mutanti. Noi vediamo proprio una sentinella che ha un pochettino le sembianze di una classica armatura di Iron Man, ancora che doveva essere montata. E in realtà qua, Tony, si trova davanti effettivamente a un dilemma quasi etico, no? Perché ovviamente lui, adesso che ha ripreso il controllo dell'azienda, vorrebbe evitare di continuare a produrre armi, anzi vorrebbe produrre altro, sinceramente, però in realtà i lavoratori, che sono sicuramente delle brave persone, dicono che nessuno pensa a loro, neanche il CEO. Difatti il capo di questo sindacato, mi verrebbe da dire, un po' non tratta bene Tony, perché sa benissimo che a Tony non gliene frega niente, perché dice, è vero, tu vuoi seguire questa strada del togliere la produzione di armi dalla Stark Unlimited, però vuol dire che poi noi restiamo a casa. E qua c'è il primo grande problema di Tony, effettivamente, in questa nuova serie, perché Tony decide che effettivamente, è vero, deve smettere di produrre armi, ma non può neanche licenziare tutti questi lavoratori. E quindi semplicemente dice, va bene, avete ragione, allora cercherò di trovare una soluzione, questo stabilimento può produrre tante altre cose, può produrre gadget, può produrre magneti vari, roba che comunque non serve effettivamente per la guerra. Questo, secondo me, sarà un grandissimo tema per questa serie, perché vedrete soprattutto più avanti, questa è una serie proprio dedicata a una lotta slash guerra, anzi, è proprio definita una guerra tra delle aziende e sul come condurre l'azienda, oltre a essere la classica storia del supereroi, in particolare la classica storia all'Iron Man. Ok? Quindi, dopo aver fatto questo scontro contro quei due, dopo aver parlato con i lavoratori, Iron Man decide di andarsene, di prendere il volo, di tornare a lavoro, per cercare di capire come risolvere tutte queste cose. In più, lui si trovava in quello stabilimento lì, proprio perché sta facendo un po' un giro di ricognizione nei vari stabilimenti, dopo aver ripreso il controllo dell'azienda. Riprende il volo e non appena si trova in aria, succede qualcosa di strano. Difatti, l'armatura smette di funzionare. E noi, in un'immagine che a me ha messo anche un po' di paura, vi dico la verità, vediamo Iron Man, il nostro eroe, che cade. Cioè, l'armatura smette di funzionare, mentre è a mezz'aria, e cade, cade proprio precipita, nella fabbrica che aveva appena visitato, e precipita di fronte a tutti i lavoratori. E qua non c'è via di scampo, ragazzi. Noi vediamo, infatti, che passano diverse settimane, molte settimane, e Tony è rimasto mezzo paralizzato effettivamente da questa cosa. Cioè, quindi questa serie si apre effettivamente con una tragedia sfiorata. Ridimane a letto per diverse settimane, come detto. Quindi gli cresce la barba, gli crescono i capelli, dimagrisce moltissimo. Ma mentre a letto e anche appena si alza, cerca di capire effettivamente che cosa è successo. Cioè, l'armatura si è praticamente spenta da sola. Cosa che è molto misteriosa in realtà per Tony, che ha sempre avuto comunque molta dinistichezza ovviamente con le sue armature, è sempre il controllo. Quindi si mette a fare delle ricerche, ma nota che a livello meccanico e anche nell'interfaccia non ci sono errori. Quindi è come se fosse il caso che avesse voluto effettivamente far cadere Tony in quella fabbrica. È tutto veramente molto strano. È una delle poche volte in cui il nostro povero Stark non riesce a darsi una risposta. Sfortunatamente per lui, però, non ha molto tempo per la riabilitazione. Difatti deve subito riprendere il volo e dirigersi al quartiere generale della Stark Unlimited perché c'è una riunione del consiglio di amministrazione molto molto importante. Vediamo quindi che il nostro Tony arriva al consiglio di amministrazione che, diciamo, non è molto gentile con lui perché Stark per diverso tempo non era stato nel consiglio avendo ceduto l'azienda a Falong in più è stato diverse settimane fuori non rispondeva alle chiamate del consiglio e, a quanto pare, non sono soli. Quindi Tony arriva nel consiglio dell'administrazione della Stark Industries ma ci sono anche altri rappresentanti di un'altra azienda. E questo rappresentante in particolare è un personaggio molto importante per la lore di Iron Man ovvero Monica Rappaccini. Chi è questa Monica Rappaccini? Ragazzi, è un personaggio abbastanza interessante non uno di quei personaggi Marvel con poteri assurdi e roba del genere semplicemente una scienziata molto molto in gamba una Villain perché ha collaborato con Modok e con diverse altre aziende in particolare con la AIM una delle aziende effettivamente costruttrici di armi più importanti dell'universo Marvel perché si trova lì Rappaccini ovviamente è una vecchia conoscenza di Tony a quanto pare Rappaccini è lì in rappresentanza della AIM insieme a quelli che sono i suoi nuovi partner ovvero la Roxxon anche la Roxxon è un'azienda Marvel molto importante e pericolosa anche loro che hanno mandato avanti nel corso di questa lunghissima storia fumettistica molti esperimenti malvagi possiamo dire con tecnologie anche rivolte alla guerra e loro sono intenzionati in questa nuova partnership a comprare in toto la Stark Unlimited e lo vogliono fare subito perché dopo gli eventi effettivamente di Feilong che ha ripassato l'azienda Tony Stark l'azienda ha perso effettivamente del valore quindi adesso è un buonissimo prezzo e in più hanno scoperto che Tony chiaramente vuole smettere di produrre armi anzi Tony addirittura si era presentato con quella che per lui era un'idea geniale lui semplicemente voleva creare una sorta di app di scommesse tra i combattimenti degli eroi durante le loro missioni questo ovviamente viene fermato voi da Rappuccini che in realtà vorrebbe comprare la Stark Unlimited per continuare a produrre armi anzi aumentare la produttività e vendere armi col nome di Stark che ovviamente è un disastro ma il vero disastro è che in realtà il consiglio di amministrazione sembra essere d'accordo cioè il consiglio di amministrazione che poi vale tanto quanto il CEO chiaramente ragazzi è d'accordo con Rappuccini anzi l'offerta che gli ha fatto la AIM e la Roxxon sembra essere molto molto conveniente e mancano poche settimane prima di andare alla conferma di queste cose qua quindi Tony è costretto a tornarsene nella sua a casa sua nel suo grattacielo a cercare di capire intanto come risolvere questa situazione ma anche ritorna a cercare di capire che cos'è che non andava nella sua armatura ok? quindi adesso si è aggiunto un altro problema il nostro Stark che purtroppo ne aveva già uno da risolvere ma mentre durante la notte sta cercando di capire tutte queste cose viene avvisato che c'è un problema in città quindi indossa la sua armatura si dirige in città e a quanto pare c'era una rapina in corso noi vediamo proprio questo combattimento brevissimo dura veramente mezza pagina tra Iron Man e due villa in veramente di quarta categoria uno che sembra di grado che pare uno squalo il combattimento non dura niente come detto ma c'è una particolarità che in realtà lo rende abbastanza importante Stark aveva provato a scansionare l'edificio e non aveva trovato niente nessuno eppure è stato attaccato effettivamente da questi due a quanto pare inizia effettivamente a capire che cosa c'è che non va perché questi due hanno una trasformazione che riguarda la magia e quindi gli viene in mente che forse tutti questi errori che sta iniziando a notare non sono errori meccanici di interfaccia tecnologici ma sono degli errori che hanno a che fare forse proprio con la magia quindi in qualche modo è stato manomesso il sistema in modo magico fortunatamente però Stark in uno stabilimento non troppo lontano ha un'armatura antimagia decide quindi di prendere e dirigersi verso questo stabilimento arriva quindi in questo magazzino e chi ci ritrova? ci ritrova i due demoni enormi che abbiamo visto effettivamente all'inizio di questo episodio quindi iniziano a combattere anche qui il combattimento non dura assolutamente niente però adesso anche voi avrete iniziato a fare effettivamente due più due qua i puntini iniziano a collegarsi e di fatti finalmente si presenta quella che è un po' possiamo dire la vera cattiva di questo numero non Rappaccini ma Justin Hammer e chi è questa Justin Hammer? per chi non lo sapesse è la figlia di Justin Hammer personaggio che probabilmente molti di voi conoscono anche per uno dei film di Iron Man un villain super iconico anche lei grandissima famiglia da sempre contro gli Stark ovviamente Tony si sorprende di vederla perché l'ultima volta che l'abbiamo visto sembrava morta in realtà era finita in un'altra dimensione ma sottolinea che la Aime e la Roxxon hanno degli alleati in altre dimensioni senza specificare effettivamente chi sono e finalmente ovviamente qua il grande reveal del villain vuol dire anche che c'è la spiegazione del piano malvagio a quanto pare lei è tornata anche lei alleata insieme alla Aime e la Roxxon esattamente come Rappaccini proprio per riacquistare la Stark Unlimited e soprattutto per eliminare una volta per tutte Iron Man e avere il totale controllo legimonia di fatto su quella che è l'industria della produzione di armi tra l'altro Iron Man è lì per dipendersi la sua armatura antimagia la Mysterium Armor la vuole prendere ma vede che effettivamente l'armatura non si dirige verso di lui di fatti scopriamo qual è il vero asso della manica di Justine che anche lei inizia a trasformarsi avendo una nuova armatura che chiama Iron Monger che in realtà anche qui è un nome già utilizzato per altri cattivi di Iron Man questa volta è proprio Justine ad utilizzarla e a quanto pare è un'armatura composta dalle varie armature che Justine insieme ai suoi alleati hanno trovato all'interno di quello stabilimento compresa anche l'armatura antimagica che effettivamente stava cercando Tony questa nuova armatura quindi oltre ad essere molto molto forte ha tutti i poteri di varie armature che Tony ha costruito nel corso del tempo quindi sembra essere veramente invincibile dall'altra parte però c'è da dire che c'è un altro segreto che Justine sta nascondendo difatti aver creato questa armatura la rende molto molto forte ma questo ancora non va a spiegare come hanno fatto lei insieme ai suoi alleati a far spegnere l'armatura di Tony effettivamente rivela che la AIM e la ROXON hanno creato un malware che hanno inserito nel sistema delle armature di Tony e ci hanno aggiunto anche grazie sempre a quegli alleati che citava prima della magia quindi questo è un malware magico proprio una roba nuovissima di casa Marvel diciamo così e lei dimostra effettivamente i poteri di questo malware difatti noi vediamo proprio che Justine semplicemente dice armatura giù e l'armatura di Tony si spegne si spegne e cai da terra lei colpisce Tony lo lascia steso lì per terra dicendo tanto io non ho bisogno di ucciderli sai perché? perché poi ci dobbiamo rivedere quando ci saranno i voti per l'acquisizione e lo lascia lì ecco questa è una vera dichiarazione di guerra Tony è messo non male di più chiaramente perché ha scoperto almeno ha scoperto effettivamente cosa c'è che non va ma allo stesso tempo sa anche che ogni sua singola armatura in questo momento è sotto il controllo di quel malware è sotto il controllo della AIM e della ROXON il che è un grandissimo problema e nell'ultima pagina finale vediamo quella che per me è la grande essenza del nostro Tony Stark sapete perché? perché si mette a costruire una nuova armatura da zero a mani nude proprio super classico con una saldatrice in mano e strumenti tutti rudimentali senza utilizzare le sue tecnologie che sono infettate da quel malware questa di fatto è l'unica occasione che ha ricostruirsi una nuova armatura non collegata alla sua tecnologia per battere gli avversari e da qui parte quella che la Marvel chiama effettivamente la nuova saga guerra Stark ROXON e il nostro episodio in realtà ragazzi termina proprio qui ragazzi che dire questo diverte molto fare questo tipo di video chiaramente fatemi sapere con un commento se vi piacciono questi nuovi video quindi in cui commentiamo le nuove serie insieme io vi lascio due video molto simili però della DC quindi con Absolute Wonder Woman e Absolute Batman quindi se vi va recuperateli e noi ci vediamo prestissimo come sempre con altri video a tema fumettistico ciao ragazzi